Il Consigliere regionale del PD Antonio Inaurato è il nuovo Presidente della Commissione Consigliare Agricoltura, Sviluppo Economico ed Attività Produttive del Consiglio regionale. Inaurato subentra al Consigliere Lorenzo Berardinetti, chiamato in giunta a ricoprire il ruolo di assessore. Il nuovo Presidente di Commissione commenta così il suo nuovo incarico. Dare continuità agli impegni, al lavoro svolto finora che ritengo molto valido e soprattutto attento alle istanze che sono venute soprattutto dalle associazioni, una gestione così complessa che va dall'agricoltura, alle infrastrutture, al commercio. Ci sono provvedimenti come quello del testo unico sul commercio che dovrà avere una subito immediata attuazione, ma penso alla gestione della fauna selvatica con tutte le problematiche che sono connesse, alla gestione del piano di sviluppo rurale. Se penso alle attività produttive, quindi a un immediato incontro con l'Arap per capire, per meglio cogliere gli sviluppi di questa importante attività. E soprattutto una sinergia con quelle che sono le attività dei singoli assessorati di competenza, sia il turismo, sia l'agricoltura, che le attività produttive. È una grande disponibilità a colloquiare e a fare in modo che la Commissione continui a dialogare con tutte le associazioni di riferimento della nostra Commissione.